Si è appena conclusa la consueta e annuale manifestazione antindrangheta di Libera. Libera è questa organizzazione, questa grande associazione nazionale presieduta da Donciotti. Ora, quest'anno si è tenuta a Locri, questo grande raduno nazionale, si ricordano le vittime antimafia, c'è stata una grande partecipazione, 25 mila persone hanno marciato per Locri, hanno riempito anche di allegria, ma soprattutto questa manifestazione è una manifestazione che ogni anno si tiene per ricordare le vittime di mafia, gli uomini di Stato, gli imprenditori, quelli che sono caduti sostanzialmente per la lotta contro tutte le mafie e per tenere alto il vessillo della legalità. La manifestazione di quest'anno, oltre alla presenza autorevole del Presidente della Repubblica, che ha avuto parole dure per l'andrangheta, per coloro che aderiscono a questa organizzazione criminale, ha definiti uomini senza onora, noi ci associamo alle parole del Capo dello Stato. Si è caratterizzata perché quattro celtroni nella notte hanno fatto delle scritte contro Donciotto e contro gli sbiroli, definendo appunto Donciotto e uno sbirolo e altre scritte di questo tipo. Ora, al di là di chi sia stato, sembra che gli inquirenti li abbiano individuati, noi riteniamo che dei celtroni senza cultura rovina della nostra regione abbiano potuto compiere un atto del genere. Tuttavia, una riflessione la dobbiamo fare. Bene la manifestazione, bene la simbologia, bene la memoria, ma ricordiamoci che l'andrangheta la potremo sconfiggere in un solo modo. Ci perdoneranno quelli che non sono d'accordo con noi. La potremo sconfiggere solo con lo sviluppo, la crescita economica di questa terra. L'autonomia economica renderà più liberi i tanti calabresi e le tante calabrese che oggi molto probabilmente non sono proprio affascinati da questa antimafia che manifesta. Prima di noi, lo hanno detto in tanti meridionalisti, se continueremo a guardare alla questione meridionale solo come un fatto criminale, noi non ce la potremmo fare. La questione meridionale deve diventare una grande questione economica. Se riusciremo a dare senso a questa sintesi, a questo concetto, forse sconfiggeremo definitivamente l'andrangheta e forse sconfiggeremo definitivamente i gialtroni che scrivono più sviluppo e meno sbirri. Grazie a tutti. Grazie a tutti.